Va bene, vai! Questo è il lungomare di Sopot Mar Baltico alla mia destra Meraviglioso, oggi giornata assolata, calda Si sta benissimo Guardate che belle casette C'è anche un museo, ma a mio amico non glielo diciamo Aspetta, va! Quelli sono i trodli Tipico quando c'è cieco Trodli Se vai un po' per indietro Quello che sta facendo adesso lui? Se vai un po' per indietro Aspetta, c'è mezzo racciclabile Se vai un po' per indietro Questo lo può, come superveglia A volte anche un po' alcolico Con ad esempio un po' il cannello Ah quel rotondino lì? E' un rotolone Non ce la farei adesso No no ma Dico che è un dolce tipico E' demerita Merita, merita Quando vai di pubblicazione C'è il caffè in giro Si Una volta per la Valentina Mi mangiavo assieme Vedi che era l'ultima sera Si Aspetta che c'è molto indietro Aspetta che c'è molto indietro Sto facendo cercando lo faccio tutto Mar Baltico Aspetta prima io Dai dai Al finale qua è la casa Una casa chiesa chiesa casa Una casa basta Va a notare la meraviglia delle piste ciclabili che ci sono in Polonia E questa non è una pista ciclabile speciale Perché siamo in un luogo di mare formosa Non è una qualsiasi pista ciclabile Io e Marco Questa mattina abbiamo girato per andare Dov'è che sono andato questa mattina che è un vuoto? Alla cattedrale Dove? Eh appunto te lo stavo chiedendo Alla cattedrale Sopot Sì Quella prima Cigna Oliva Esatto Ecco siamo arrivati da Danzica Oliva in bicicletta E poi abbiamo guardato Google Maps Mi ha visto che si metteva poco Casina Casina Grazie mi sa che questo è un hotel Caspitronza Guardate che bello gli stabilimenti del mare qua Naturalmente è tutta la spiaggia libera Con lanine e subito C'è seda ferma E comunque sto dicendo Piste ciclabili fantastiche, meravigliose Larghissime Hanno dei marciabili enormi E a fianco a queste ciclabili giganti Tanti ci fermiamo Piano piano andiamo avanti a guardare i mercatini Ok Ok Insoluto i fan Ciao Ciao ciao